e ogni volta che parlo al popolo della destra e che vi guardo negli occhi capisco la differenza che c'è tra noi e gli altri. Gli altri sono la chimica, il cartello di potere degli affari, noi siamo l'entusiasmo, la passione, siamo quelli che credono, che hanno il soraggio delle scelte nette. Sono orgogliosa di voi perché siete veramente alla mia forza. Voglio dirvi la grande differenza che c'è tra il PD e il PDL e la destra. Loro sono due grandi supermercati che questi giorni mi stanno offrendo di tutto e di più. Sono come quei supermercati dove nel banco si trovano i prodotti più alla moda, quello meglio incartati. Ma ricordate gli italiani che si sono dimenticati che prima di uscire c'è la cassa e bisogna pagare.